Stazione Celeste. 22 giugno 12. La voce dell'anima. Emanuele. Tramite Cristina Sambres. La vita è simile ad una grande sala d'aspetto dove tutto può succedere ma alla fine sei tu che decidi che cosa vuoi che avvenga. Se i tuoi pensieri sono illuminati allora la via si manifesta distinta e tu presto saprai dove andare. Ma se ti adagi nell'attesa e non anelli ad andare da nessuna parte allora questa via appare confusa, difficile e così ti perdi nella nebbia della tua mente e dei tuoi desideri non chiari. Ed è con la mente che ti allontani dal tuo percorso personale e dalla possibilità del risveglio. La tua anima è illuminata perché viene dallo spirito matrice ma non sempre è forte. A volte l'anima si fa sentire troppo debolmente e tu non riconosci il suo richiamo. A volte invece la sua voce cristallina zampilla veloce e ti parla in modo chiaro e limpido, come una giovane fonte primaverile. La voce dell'anima è l'intuizione divina, la stilla benefica, che illumina e consola. Essa deriva dalla coscienza dello spirito e parla in modo sconosciuto ai più. E questo è il momento di ascoltarla. Smetti di fare ciò che stai facendo e ascolta. Se la sai ascoltare udirai solo parole incoraggianti, sincere e foriere di buone notizie, perché la tua anima è figlia dello spirito, che è presso Dio. E tu non ti stancherai più del tuo percorso che è la tua vita ma sentirai il forte desiderio di incamminarti più velocemente su per la china. In questi tempi memorabili, la voce dell'anima si farà sempre più chiara e aiuterà a destarsi coloro che sono pronti. Esorterà a cercare ancora coloro che si stanno preparando. Inviterà alla pazienza coloro che non sono ancora pronti. Ed il risultato sarà mirabile. Ci sarà grande pace nel cuore ed appagamento, ci sarà la consapevolezza di essere nel vero e nel giusto. Ci sarà, infine, la capacità di accontentarsi del proprio livello e di non mirare a ciò che non ci appartiene. Tutto è giusto e santo nella via, tutto è perfetto. Il mondo dello spirito accoglie ed aiuta coloro che sono in questa situazione. Un grande passo in avanti è stato compiuto anche se con fatica. Voi forse non ve ne siete neppure accorti di quale cambiamento di qualità stia avvenendo ora sulla Terra. Ma saprete presto vederne i risultati perché la voce dell'anima vi parlerà delle cose divine e vi spiegherà con pazienza dove siete arrivati e come potrete proseguire. Tutto questo è stato ampiamente descritto, voi lo riconoscerete. Avrete allora ancor di più il desiderio di seguire il vostro cammino personale e non sarete stanchi di proseguire. Vi accorgerete che siete in tanti, voi, e che, man mano, che crescete, vi potrete aiutare l'un l'altro siete molto simili fra di voi perché provenite tutti dall'idea primordiale. Che questo nuovo solstizio veda la vostra nuova determinazione e la vostra rinata consapevolezza. Tutto è e sarà nella pace. Pace ancora a voi. Emanuele